Dottor Francesco Laurelli, siamo davanti a questa attrezzatura, a questo laser che praticamente siete gli unici nel Molise ad avere. Sì, noi abbiamo cominciato nel 2002 a fare questa chirurgia, la chirurgia laser per la correzione dei difetti di vista, miopia, permetropia, stigmatismo e soltanto da circa sei mesi abbiamo acquisito un nuovo laser, si chiama Femto, che è una sorta di robot che abbiamo noi qui a Capobasso, ne hanno uno a Roma e uno a Chiedi, quindi veramente siamo pochissimi in Italia. Questo robot permette di fare la chirurgia refrattiva, quindi di operare le miopie, le ipermetropie, gli astigmatismi addirittura automaticamente, per cui il chirurgo adesso ha un ruolo sempre più marginale rispetto alla tecnologia. Ci vuole comunque sempre un'abilità operatoria che evidentemente non può prescindere dall'uomo? Assolutamente sì, la macchina fa il suo lavoro e lo fa bene, quello che è importante è programmarla per farglielo fare, qui l'esperienza del chirurgo è molto importante, calcolate che questa chirurgia è una chirurgia veloce con un recupero immediato, noi operiamo e il giorno dopo il paziente torna alla normale attività. È una chirurgia molto complessa ma anche che dà molto soddisfazione perché ci permette di avere dei risultati rapidissimi senza avere praticamente effetti collaterali. Quindi sono stati abbattuti completamente i tempi lunghi della chirurgia tradizionale? Sì, come diceva Fiotro, fra vent'anni probabilmente gli occhiali non esisteranno più perché la chirurgia è diventata talmente sofisticata da permettere anche nei bambini, perché è successo e succede, di avere dei risultati estremamente positivi e soprattutto di ridurre i rischi in modo da portarli quasi a zero. Quindi anche per i più piccoli è possibile usufruire di questa strategia chirurgica? Sì, ovviamente nei bambini ci devono essere delle condizioni, delle indicazioni particolari, però la bufala che questa chirurgia può essere fatta solo in pazienti adulti, ultra 30 anni, ultra 20 anni eccetera è assolutamente falsa perché è possibile con questa tecnica curare qualunque tipo di difetto visivo a qualunque età e soprattutto una tecnica ripetibile per cui se operiamo un paziente giovane che dopo 3, 4, 5 anni o una donna che ha gravidanza o allattamento e ritorna il difetto la possiamo rioperare in tempi rapidissimi e senza nessun effetto collaterale.